un background floreale per questa nuova puntata di testi senza senso e bonjour ciao a tutti buongiorno a tout le monde siamo un po francesi perché forse queste rose però ci sono dei parassiti su queste cose ci sono dei puntini un po scuri schifosi quindi cambiamo c'è una bellissima dona con bel maglioncione che cambiamo abbiamo vegetazione da spiaggia direi tatuaggi un bel caffè ci sta un bel caffè ci sta allora cambiamo il titolo di questo dove rientrare solito so dove devo rientrare non mi ubriaco mai non mi capita molto spesso di perdere la memoria come dire cambiamo il titolo navale conservare finché esso è esso il tendere perché negativo una provvedere malgrado piano crescione costui produrre chiunque patate novelle ma certo spesso indomabile donde ed togliere banale recare né sottodatteri sottodatteri sotto sotto ci sono sempre dei datteri ragazzi sappiatelo il dattero un po omnipresente allora qua avevamo un solo frasi sensate che è eredità del precedente testo che non so se ho messo in ordine poi di pubblicazione esattamente così ma voi fate finta di niente quindi facciamo una cosa che randomizziamo 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 togliamo solo frasi sensate no no nessuna regola no questo lo lasciamo così rirandomizzo rirandomizzo genero il testo sottodatteri sotto com'è che è così corto e non ho fatto frasi brevi però vabbè sottodatteri sottodatteri riconoscere restare il 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 temere gli illo le purché conoscere comprare importare il lodatteri lodatteri attenzione perché non abbiamo sostantivi selezionati aggiungiamo delle strofe tipo donde io gli gli le uno poco ma annunciare bruciare lui li facciamo mettiamoci i vasti sostantivi che glucosio ossidasi tu abbandonare uva bianca o pazzo cosa abbandoni l'uva bianca o fino sia rafano beats ball blitz ball ma cambiamola va uva bianca ognuna rompere rompere le tacere godere pentathlon beige oliva chiaro idem sottodatteri sottodatteri tartaruga zanzara dunque sentire orbettino creare le care chiara ferragni pinolo piaceranno i pinoli a chiara ferragni formaggio vegano posare non voglio proprio il formaggio vegano il vero però però posare nostre il posare però che posare a meno che per mettere la sottodatteri rosso violetto chiaro sottodatteri rosso violetto chiaro direi che siamo quasi paghi anzi decisamente paghi anzi sentiamo un posta base come e natale fu a non niente a bestest un schiaccio play n st st vabbè queste partenze di sei giorni allora facciamo una cosa incredibile che adesso scollo 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 parto da sotto questo questo è dato ti sto dicendo questo voglio non gliene frega niente vabbè prima questo vabbè allora ehi questa questa la mette ma questa è vecchia ah va bene grazie mille cioè io ho qua tutte le basi nuove tu non me le vuoi mettere se è una carogna schifosa vabbè questa violenza inaudita su eh questa cosa porca miseria impegnativa ma che è che si canta sta cosa è di un'inquietudine quasi epocale e la facciamo però mi sa che devo aggiungere una storia che dura sei sei giorni al limite la stronco eh cioè portate pazienza ma qua c'è dell'evidente difficoltà da parte mia nell'esecuzione di tutto ciò vediamo cosa esce mamma mia che ansia o o o o o o o o Glucosio, ossidasi tu, abbandonare uva bianca fino a si arrabbano. Glucosio, ossidasi tu, abbandonare uva bianca fino a si arrabbano. Glucosio, ossidasi tu, abbandonare uva bianca fino a si arrabbano. Glucosio, ossidasi tu, abbandonare uva bianca fino a si arrabbano. Glucosio, ossidasi tu, abbandonare uva bianca fino a si arrabbano. E' un freccio e pesca in apnea, solamente l'anata mi ci dà. Cornice, agnello blu. Felice. Grazie. 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 Grazie.